Ciao a tutti ragazzi da TFG On The Mane! Cosa è successo? Tanti occhiali! Allora ragazzi effettivamente oggi facciamo un video troll però è fighissimo perché ho dei comandi spaziali tipo se adesso faccio... adesso mi vedete così ma in realtà guardate se faccio di status c'è scritto vedete You are the squeeze as item materiale diamond quindi adesso loro mi vedono come un diamante Perché hai un blocco di diamante in mano? Non lo so, me l'hanno regalato comunque loro non vedono cosa ho in mano e niente loro vedono solo questo diamante che gira per la mappa Vedi perché ti hanno buttato qualcosa? Taylor ti ha dato un TNT per uccidere qualcuno quindi mi hanno dato 64 TNT per uccidermi Allora ragazzi adesso mi teletrasporto su qualcuno adesso tanto sono un diamante io questo qui adesso mi vede... cosa fai? Cosa hai scritto? Ficca Taylor fallo per noi Allora ragazzi guardate questo adesso non sa Oh guarda un diamante! Adesso cerca di prendermi guardalo Allora vedi che mi viene vicino Aspetta va via Ahahahahah Ha revesso Va via Ahahah Non capisce What the fuck? Ma verrà che scrive what the fuck? Cosa cazzo sta succedendo? C'è un uovo diamante per te qua che ti aspetta Guardalo Guardalo No qua girati Girati Eccolo ecco un diamante E invece no ti colpisce Ahahahahah Non mi ha visto Pam 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 Ahahahahah Che roba mia che scappa Non capisce Rega un bug Rega c'è un bug Aspetta Adesso guardate ragazzi Lui si chiama Andrea271002 Aspetta adesso Adesso sparisco Aspetta Si sparisco Allora posso trasformarmi anche in un player Guarda eh Ok Ragazzi adesso sono Sono locato come Andrea27 Guarda che si vede in faccia Siamo uguali ragazzi Siamo uguali What the fuck? Guarda che scrive what the fuck Ahahahahah Ragazzi è in contemplazione Di se stesso Mi guarda e non capisce E questa è la sua casa? Sarà Questa è la sua casa Interessante E non la fai esplodere No vabbè perché Questo X Matti Vedi che c'è Oh bastardo Mi sta colpendo Mi vuole uccidere Ma tu sei sfigato Mi vuole uccidere Sei sfigatissimo Ti sta solo che bene C*****e Nooo Sei Eh Vedi Guarda un uomo Non capisci Te lo meriti Te lo meriti Te lo meriti Perché? Perché sei stupido Tipo adesso questo Giacomo0402 Mi vede come un player normale Non come Taylor Eh sì Io prendo qua Adesso gli prendo la roba Vedi che il tornatore Non può fare niente Ecco Mi prendo tutto Che bello Guarda che roba Adesso prendo Vado via Guarda che lui Mi pensa che c*****e Vabbè cosa gli facciamo Dimmi Mettigli un blocco di lava D'acqua Acqua Acqua Sì ma ti serve un altro blocco Per onde a provare il blocco di lava Qua Questo Giacomo042 Vediamo Si incazzerà tantissimo Con un certo Andrea Guarda che Eheheheh Nooo Le riempio tutto d'acqua E si incazza tantissimo Adesso sto qui con me Uso il tetto anche Guarda che scrive Andrea vai via Andrea vai via Guarda Guarda che vuole uccidere Vuole uccidere Andrea, ma Andrea non c'entra nulla. Addio, viene il Giacomo colore di ferro. Guarda, gli butta l'acqua addosso. Come sei arrivato qui? Come sei arrivato qui, dice. Adesso da qui, da qui, uscirà il Giacomo. Ok, ragazzi, adesso io sono lui. Io sono Giacomo, guarda. Giacomo 0402. Ma che roba. Guardate cosa fa adesso. Come l'hai fatto? Come hai fatto? Aspetta, aspetta, cosa dice? Aspetta, adesso da qui, verrà fuori un Creeper adesso, ovviamente. Adesso penso che io sia un Creeper. Aspetta, aspetta. Faccio così, adesso prendo un bell'arco. Tanto loro non riescono a rompere l'ossidiana, giusto? Ci mettono un po'. Fanno un giro. Aspetta. Adesso? Adesso? Ah! Poglione! Poglione! Ah 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 ah! Adesso vengo qua. Che picchi è? Sei nudo? Loro pensano di picchiare un Creeper, è quello che mi fa ridere. Io non so un Creeper. Oh ma tutte le volte che ti uccidono, vero? Taylor è stato ucciso, da. Ah 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 ah. Oddio! 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 Ragazzi voi non sapete cosa mi sto... Mi sono trasformato in un Ender Dragon, guardate. Di status... Adesso sono in Game Mall, non tocco i players, vado solo a farmi vedere. Tipi? Sono un Ender Dragon, guardate che no, guardate a tutti che mi guardano. Oddio che figata, sono un Ender Dragon. Vediamo cosa scrivono, vediamo. Ma che cazzo? Guardate che scrivono, ma che cazzo LOL. Ah 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 ah, certo. E l'ho vestito da Ender Dragon. Beh non è difficile eh. Adesso prendo e vado a cambiarmi in qualcos'altro. Ok ragazzi, sono trasformato in un player che si chiama SlenderX2004 e mi armo di spada in diamante. E qui adesso... Guardate che si vedono, Slender che mette Slender e dice che cazzo succede? Oddio che figa... Oddio che idea! Cosa? Adesso io vestito da SlenderX, mi metto tutta l'armatura in diamante incantata, e vado da quelli più scarsi e li ammazzo e danno la colpa a SlenderX che non c'entra un cazzo povero. Ma sì? Guarda vedi, Cosmo è stato ucciso da Slender, vedi? Slender verrà ucciso da Slender. Slender verrà ucciso da Slender. Lascia lì la roba. Guarda vedi, il Pro è stato ucciso da Slender. Oddio questo mi spara le frecce infuocate, via scappa! E muro un po' poco. No adesso faccio così e vado in game... Aspetta... Corri, 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 corri! Corri, 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 corri! Sti ammazza e non se ne ho che ragione. Via, 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 via! Ma in acqua no! Slender! Oddio lo puoi scoccare, aspetta... GM1... Sì! No rimane sott'acqua. Aspetta, aspetta rimango sott'acqua, rimango sott'acqua dai! Dai venite un premio, dai! Tanto sono in game modio! Guarda che mai sono mai manne gatti, sti qui! Affondo! Oddio! Adesso faccio finire, ti prendo un respiro e che torno giù. Aspetta, 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 vediamo... Voglio non uccidermi perché loro pensano che io sia Slender. Slender è qualcos'altro. Aspetta, zanno così. Vedo il ghiaccio, guarda che bastardo! Che figata! Che figata! Aspetta, 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 aspetta. Io vado sotto e rompo il ghiaccio. Non posso rompere il ghiaccio? Sì, posso rompere il ghiaccio e esco da qui. Oddio, che figata! Oddio, oddio, guarda che non capiscono, non pensano che sia... Questo non capiscono, aspetta, vado giù. Guarda che cercherà di venire uccidermi, guarda, è lì. E tu l'hai colpito e adesso morirai. Ah, cazzo, è vero, non dovevo colpirlo. Ah, signore. Non dovevo colpirlo, cazzo. Ah, adesso muori. Adesso muoio veramente. Ah, adesso muori veramente. Che stupido! No, aspetta, aspetta, aspetta. Sei davvero anche stupido. Aspetta, 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 aspetta. Muori. Ce la posso fare, aspetta, dai. Dai, ti prego, no, no, no. Dai, 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 dai. Sì! No! Sì! Allora, è presente l'area di League of Legends? Eh. Vabbè, ragazzi, comunque, ormai non sempre l'hanno capito perché si sono scritti in chat che ormai c'è un certo Taylor selvatico che trolla. Il prossimo video però lo faremo ancora meglio perché avrò dei comandi ancora aggiuntivi che saranno invisibili anche nella chat del gioco. Esatto, e soprattutto non colpirai nessuno, vero? Esatto, no, anche se colpisco, non posso essere colpito. Ciao a tutti e al prossimo video.